La decisione dell'Inter ha provocato un putiferio tra i tifosi. La battaglia con Digital Beats e il suo fondatore, Al Burcio, non finisce qui. Benvenuti tifosi nerazzurri. Se sei nuovo qui, questo canale ha lo scopo di pubblicare notizie quotidiane dall'Inter, dove puoi seguire tutte le notizie del club, dagli ultimi acquisti ai risultati delle partite più emozionanti. Iscriviti subito per non perdere nessuna informazione rilevante sull'Inter. Qui avrai accesso a interviste esclusive con giocatori e allenatori, analisi tattiche delle partite, informazioni dietro le quinte sul club e molto altro. Seguire l'Inter non è mai stato così facile e pratico. Quindi, non perdere altro tempo e unisciti ai nerazzurri. Insieme vibreremo e tiferemo per la più grande squadra d'Italia. Forza Inter. È stato accertato che la società non ha pagato nessuna delle tre rate da 8 milioni patuite al momento della firma del contratto come main sponsor del club nerazzurro. L'Inter non la lascerà a buon mercato e continuerà a lottare in altre piazze per ricevere ciò che gli spetta di diritto. Il match con Digital Beats, il cui ex partner è il mitico Floyd Mayweather, ex pugile di fama mondiale, si preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena. Lascia il tuo like per continuare a ricevere le notizie quotidiane dall'Inter. Continuando. I tifosi dell'Inter sono più che mai al fianco del club in questa epica battaglia. L'amore per la squadra nerazzurra non ha limiti e la decisione di non mollare mostra la grinta e la determinazione che sono presenti in ogni giocatore. Forza Inter. La vittoria è vicina e sarà ancora più gustosa dopo tanto impegno e dedizione. La battaglia dell'Inter con Digital Beats e il suo fondatore continua su altre piazze, ma la grinta e la spinta del club nerazzurro e dei suoi tifosi sono incrollabili. Non arrendersi dimostra l'amore per la squadra e la volontà di lottare per ciò che è giusto. Di sicuro la vittoria sarà ancora più gustosa dopo tanto impegno e dedizione. Possa l'Inter andare avanti con quella stessa energia e passione, alla ricerca di nuove conquiste e gloria per la sua gente e la sua storia. Commenta qui sotto cosa ne pensi della notizia. Lascia il tuo like e iscriviti al canale per continuare all'interno delle news interiste. Alla prossima tifoseria nerazzurra.